Siamo già pronti al parco di raggi KTMS3 con il 73 Parshin, poi con il 153 Matti Di Bortoli, Terraneo, pezzuto, ma attenzione entriamo ora nella... 5 secondi, teste che si abbassano, mano sulla frizione Aspettione, Kairone, traverso! Partiamo in linea! Quanto posizione, per un buon attenzione, per un buon attenzione Si preventa in prima posizione Noni, Kairone, numero 26 Un buon attenzione Un buon attenzione Un buon attenzione Un buon attenzione ... Grazie. 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 Grazie.